Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Allora, oggi pare che la neve ci ha dato la tregua e però naturalmente è arrivato l'unico remoto. Io dico una cosa, abbiamo telefonato stamattina a un po' di amici nostri che stanno ancora dentro i container, dentro i camper, perché stanno veramente nella merda. Che cosa è successo? È successo che stanotte è nevigato tantissimo e hanno dovuto fare urli per spalare tutta la notte perché siamo potuti anche andare a raggiungere con i miei amici perché avevano paura che gli cascasse il tetto del camper sulla testa. I moduli abitativi ancora non sono arrivati, gli animali stanno morendo, io sto parlando della provincia di Macenata, tanti agricoltori sono stati costretti a vendere gli animali per poter aggiustare i capannoni. I soldi non sono arrivati, lo messaggino, quello che dovevamo mandare a noi, non l'abbiamo mandato, i messaggi, abbiamo mandato i soldi. Che cazzo le fine hanno fatto i soldi? Di cosa parlano i telegiornali questi giorni? Di cosa stanno parlando? Il decreto del decreto salva banche, il governo sta stanziando 20 miliardi per salvare le banche che sono quelle che hanno ammazzato e hanno mandato in rovina un sacco di italiani. Ma c'è state a piappe il culo! C'è state a piappe il culo! C'è state a piappe il culo! Qua ci sono centimetri, metri di neve, ci sono posti che non sono neanche raggiungibili dall'esercito, dalla protezione civile, dai vicini del fuoco. Non sono arrivati i moduli abitativi, non sono arrivati i soldi per aiutare i terremotati. Ma che cazzo volete? Cioè volete ammazzare? Volete che il centro Italia sparisca? Merde! 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 Siete delle merde! Dove stanno i soldi che abbiamo mandato noi col telefonino e col telefono i messaggi? Dove sono andati a finire? Non dovete fare in modo che questo video lo vedo a tutti! A me non me ne frega un cazzo! Bloccatemi! Segnalatemi! Fate come cazzo vi pare! Noi ci siamo rotti i coglioni di essere presi per il culo! Avete capito? Non vogliamo più essere presi per il culo! Vaffanculo a tutti! Vaffanculo a tutti! Governo di merda! Rotture di cazzo! Ciao!